E' ufficiale la riapertura dell'ufficio postale di Ponte Barizzo. Nella giornata di ieri, infatti, Poste Italiane, attraverso l'area territoriale sud filiale Salerno, ha comunicato al sindaco di Capaccio Pestum l'esito positivo della rinegoziazione contrattuale con i proprietari dei locali che ospitano gli uffici postali. Ringrazio i dirigenti di Poste Italiane, afferma il sindaco Palumbo, con i quali c'è stato un dialogo proficuo tale da evitare la chiusura dell'ufficio di Ponte Barizzo, che rappresenta un punto di riferimento per la sua posizione baricentrica sul territorio comunale.